Buongiorno Ah che mi ha spostato Un lasso sporco Un lasso sporco Sediamoci a chi? Vale qua Buongiorno Oh grazie Oh seduti Eccoli Issa Come si è a Roma Issa Issa Allora Chi sono questi? I fotografi no? Allora cosa volevi dirmi Papa No dico perché non rimani fino a metà aprile in vacanza a Roma Metà aprile Per fare cosa metà aprile Cioè nel senso No fammi Sì ho capito ma devo In che senso rimanere per Fammi parlare no? Il 15 aprile Di aprile è pegnote il film Ti sposo mano troppo Ah ti sposo mano troppo Il 17 di aprile tutte le sale Tutte le sale Il 15 di aprile è l'anteprima a Roma Come il 15 aprile? L'anteprima è il 15 aprile Del film? Il 15 di aprile Ti sposo mano troppo Va bene Ah ti sposo Perché non mi hai detto che c'erano tutte le sale del 17 Cioè stavo a mandare di mail non lo so io Ecco quello che fa il pavimento Hai capito? E stiamo qui Tutti quanti insieme a vedere il film Con Gabriele Pignota A fare un pari Un film un po' capito che è figo Nicchi Nicolosi Sì Ma resta Ti sposo mano troppo Il film di Gabriele Pignota Dal 17 di aprile vi voglio tutti al cinema E attenzione Che all'Angelus del lunedì di Pasqueta Vi interrogo sul film E attenzione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie 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 Buongiorno